Oggi nuovissimo draft, ma possiamo scegliere solo le carte Team of the Season Eccoci nel draftino, andiamo con un bel 4-4-2 in linea, servono 11 toz, regà So che è difficile, veramente difficile conoscendo questo fantomatico gioco E già la partenza è una delle cose più orribili del mondo ATT, rimaniamo nell'orribile, ci piace la mediocrità, è la cosa che FIFA frezza di più È proprio, è proprio una fusione, no? Bel draft, dovevo chiamare il draft degli oro non rari, dovevo chiamarlo così Vediamo se ci rifacciamo, vediamo se ci rifacciamo Siamo a 2, 2 ne servono 1000 praticamente, però dai, se continuiamo così alla fine qualcosa ci rifacciamo Dai, 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 si inizia a droppare soprattutto, si inizia a droppare, ma ehi, guarda qua che bella robetta 97, peccato che servono solamente 1, 2, 3, 4, 5, eh, solamente 6 toz Vediamo qui, dai, almeno qui è uscito, dai, almeno qui è uscito Dai, servono solamente, regà, 6 team of the season Ma pochi, eh, pochissimi E già qua, almeno potevo mettere un portiere a centro campo, dici, ma nemmeno quello ci fanno mettere Qua, nemmeno Grimaldo c'era tozzi, mi sono levato un giocatore tozzi, sono un idiota Andiamo, loco, buono lo zio loco, va benissimo, ma io, prima, regà, a me basta che mi droppa tozzi Io li metto 2 bug, posso anche mettere un portiere in attacco Basta che droppa tozzi, ma, regà, la vedo durissima Che drop rate abominevole, che drop rate abominevole, signori Serve davvero un miracolo Serve davvero un miracolo 1, 2 e 3 Regà, 3 su 4 Please 3 su 4 E la prima è andata, deve andarmi 3 su 3, Cribbio 3 su 3 Ok 1 ce l'abbiamo 1 c'è 1 c'è 2 su 2 Please Please Niente, vaffanculo Dai, almeno ultimo Almeno 10 Almeno 10 Oh no, 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 no Cribbio Purtroppo me ne ha droppati solo 10 Non ce n'è nemmeno un altro da mettere Quindi, vabbè, lasciamo Ruben Diaz Obbligato, cioè, non abbiamo altre possibilità di scelta Però tutti i restanti Team of the Season sono in campo Ma anche molto belli Alla fine, vabbè, levando la difesa a questi due Però c'è Baccia, che comunque è una carta molto bella Quando lei crossava Però, cavolo, vero, non c'è il cross più buggato Ci hanno levato il cross buggato Si vede maledetti Inizio anno godevo con questo cross buggato C'è Santo Massimino sulla fascia che viaggia Vitigna Che comunque la carta non sembra male C'è, vabbè, questa qua può fare un po' tutto 99 velocità, 97 dribbling Fa un po' di tutto al centro campo Poi c'è questo qua che è 99 velocità 90 di 92 dribbling Minchia Di Maria, 98 passaggio, 98 dribbling Perché no? E poi, vabbè C'è colui C'è Kylian Mbappé Ragazzi, il team è pazzesco Team of the season A palla Non è male come draft Andiamo a spaccare il draft Namo Se volete comprare Crediti via a bassissimo costo In questo finale di gioco Con i Tots Passate da FIFA Coin Se volete spacchettare i team of the season O comprarli E fare la squadra dei vostri sogni Usate il mio codice sconto Passate da FIFA Coin Solamente se siete degli esperti del settore Angelo Dai Angelo Ma serve un po' di Kylian Dagliela Kylian Pempe Pempe Dio Bonno La salva sulla linea Ma c'è ancora Di Maria Ma vabbè Ma chi è Davis? È Paolo Maldini E nemmeno mi tocca Prende palla Scusami vaffanculo Dammi sta boccia Bello Come si crea? Kylian Kylian scucchiaio No Stavolta ti prego Ed entra Stavolta Entra Kylian Mbappé Mette l'1-0 C'è proprio lui Mbappé L'ultimo gol Con la maglietta del PSG E andiamo così Sì Dagliela santo E ora Kylian Accampa per te micidiale Accampa per te micidiale Kylian No Non ci credo Maldini Che cazzo ha preso Erroraccio Mbappé Ad addietro Santo Massimino Erroraccio Che non puoi commettere Quando c'è Kylian Mbappé Santo Massimino Flexa i muscoli Mette una palla dentro Che non era facile Comunque veniva in controtempo Bello all'incrocio No No 2-1 La riapre così È la palla per Santo Massimino Che imbucca sempre dentro per Di Maria Che può andare solo contro il portiere Angelo Sempre Angelo C'è Mbappé che la chiama Maldini Oh Maldini ha salvato 2 gol già 2 gol netti Ha salvato Sto cavolo di Maldini Ancora Kylian Che si gira In modo spettacolare Spero si allunga palla Cazzo Bello Bello Kylian Ma vai oh Ma siamo a 3 gol salvati Ma che palle Di Maria Vede lo spiroio Per Santo Massimino Che lo salta Ma c'è Cafu E siamo a 4 gol Salvati Zio Perone Sempre palla per Mbappé Mbappé Ma che cucchiaio Di se trem Siamo sempre Un'altra azione Che poteva essere gollo Glamoroso Palla per Mbappé Che si gira In modo fanta Vabbè ragazzi È la partita Se stai per segnare Arriverà uno a salvarlo Ma il mio portiere Ma il mio portiere Non ha le braccia Ma il mio portiere È un ritardato Ma il mio portiere È un coglione Ma scusatemi ragazzi Ma il mio portiere Non sa parare C'è Con qualcosa di orribile C'è assurdo Ragazzi È clamoroso Mbappé Tanto adesso arriverà Qualcuno da dietro Dai prendimi la palla Oddio Ho fatto gollo E nessuno si è trasformato In superman Meno male 3 a 2 Saranno che qualcuno Non mi abbia preso Palla da dietro È gol immagino Eh beh Il mio portiere È una figa di sedia Immagino che Era gol Bello Oddio È vuota Di Marie Di Marie è vuota Non puoi sbagliare Angelo Non puoi sbagliare Questo è un gioco latino Bello Sì Penalti Penalti quanto una casa Su svia Calcio di rigore Per chi le ha Mbappé Vediamo chi è che lo sa battere meglio Adesso la vitignia 99 di rigore Ma quando Ma quando E dimmi anche PURCHÈ Vitignia La mette nell'angolè 5 a 3 Mettiamo un po' di vantaggio Con questo baffetto Vedi io e vitignia Siamo uguali Guarda qua che baffo Abbiamo lo stesso baffo io a vitignia Vabbè dai Questo facile Signori Unai Simons Dai Troppo facile Dai Te la metto lì all'incrocio Però Troppo facile Troppo facile Signori Too easy for me Unai Simons Chiude 6 a 3 Tutti a casa Il match Termina qui Vittoria Eclatante L'abbiamo surclassato I nostri dimontesiti Hanno spaccato tutto Challenge Riuscita Perfettamente Signori Perfettamente I need to kick the habit That my mind is breathing in Break the habit